Ossessionata dalla corte del suo agente, al quale la lega un contratto di ferro, Jakey, un appariscente cantante country, accetta una scommessa se riuscirà a trasformare in una star della canzone un tizio qualsiasi, sarà libera, in caso contrario dovrà cedere alle attenzioni erotiche del manager. Commediola musicale esile esile, ma brillante dal punto di vista commerciale, di Sylvester Stallone.